Per gli agenti della squadra mobile avrebbero messo a segno 5 rapine e tutte e danni di 5 comproro di Palermo. A capo della banda ci sarebbe una giovane donna, Rosalia Oggeglio, di 28 anni. Con lei sono finiti in manette Rosalba La Rosa, di 36 anni, Aurelio Valguarnera, di 54 anni, e Salvatore Giappone, di 30 anni. Arresti domiciliari per Liborio Oggeglio, di 49 anni, accusato di ricettazione. Tutti gli arrestati sono del quartiere Monte Pellegrino. Le indagini della Polizia di Stato hanno consentito di mettere fine alle rapine della banda che avrebbe preso di mira in un mese gli esercizi Gold Moment, in corso Alberto Omedeo, il comproro di via Roccoiemma 77, Affarissimi di via Pietro d'Aragona, MG Preziosi di piazza Generale Cascino e la gioielleria Gregorio Clemente, di corso Butera Bageria. I 5 assalti avevano fruttato i malfattori, monili e denaro contante per un valore di circa 1000 euro. Fondamentali nell'attività investigativa si sono rivelati, filmati degli impianti di videosorveglianza dei negozi e le testimonianze raccolte. Nel corso delle indagini Rosalia Oggello si è rivelata l'idetrice, la promotrice e l'organizzatrice delle rapine. Sarebbe stata lei a scegliere i complici e a fare da palo durante i furti. Rosalia Oggello usava sempre lo stesso copione, entrava nei negozi presi di mira, avviso scoperto per non destare sospetti e si intratteneva sull'uscio con i commercianti. In questo modo i complici avevano tutto il tempo per fare irruzione e svaliggiare i negozi. Sono in corso le indagini per scovare i ricettatori che hanno venduto gli oggetti preziosi rubati. Grazie a tutti!